Siamo stati bravi perché ci abbiamo creduto fino alla fine e comunque subire un gol così in quel modo poteva buttarci giù e quindi siamo stati bravi a reagire e a crederci fino alla fine. Eravamo in dieci, raccontaci il gol. Niente, è stato un traversone di Corrado, poi una deviazione del portiere, la palla rimasta lì su secondo pali, mi sono defilato perché ho visto che c'era spazio e mi sono trovato nel posto giusto, nel momento giusto. È importante continuare a muovere la classifica, sapevamo che era una partita difficile contro un avversario tosto e comunque qua da loro con il tifo e tutto avevano una spinta in più e invece siamo stati bravi comunque a portare un punto a casa almeno. Sappiamo le qualità che abbiamo, la squadra è una rosa ampia e completa e chiunque può dare una mano in qualsiasi momento. Dobbiamo continuare su questo piglio e continuare a fare punti assolutamente.